Ma chi sono gli Young Avengers? Il giovane team di Avengers che sta iniziando a far parlare di sé anche nell'MCU, in realtà ormai da un po' di tempo. Oggi parleremo delle origini di questo team, andando poi anche a parlare, specificare, raccontare quelli che sono i poteri e la storia dei personaggi che hanno fatto parte di questo team. Ovviamente, come sempre, voglio partire dalle origini, ma prima ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale se non volete perdervi altri contenuti del genere e soprattutto di lasciare mi piace, così sappiamo che questi contenuti vi piacciono e continueremo come sempre su questa linea. Detto questo io direi che possiamo cominciare, prima di cominciare ovviamente vi consiglio un'ultimissima cosa, ovvero quello che sostiene il nostro canale, ovvero il nostro negozio. In descrizione infatti trovate il link diretto a Redoc, il nostro negozio in cui potete trasformarvi nel vostro eroe preferito. Potete scegliere i poster ritratto personalizzabili, basta mettere la vostra immagine se richiestero il vostro nome e il gioco è fatto. Ovviamente potete scegliere ogni tipo di poster, sono tantissimi, sono diversi, avete anche a disposizione il codice sconto YouTube per chi ci segue e io direi che possiamo cominciare e partiamo proprio dalle origini di questa squadra, le origini degli Young Avengers. Il tutto inizia quando un giovane, Natalien Richards, una versione di Kang, chiamata poi Iroled, arriva in Terra 616. Qui decide di preparare la Terra all'arrivo di Kang, ma proprio nel momento in cui arriva, per colpa di Scarlett Witch, gli Avengers si sono sciolti. Iroled quindi decide di andare nelle Stark Industries dove trova una versione distrutta di Visione e con quella versione di Visione crea la sua armatura. Con questa nuova armatura si scopre che al suo interno c'era anche un programma di sicurezza per il fallimento degli Avengers. Questo programma prevedeva il reclutamento di alcuni giovanissimi eroi che gli Avengers avevano iniziato già a tenere d'occhio. Tra questi avevamo per esempio Billy Kaplan, che verrà poi conosciuto come Wiccan, Teddy Altman, Hulkling e altri personaggi molto importanti. Non vi preoccupate che comunque nella seconda parte del video andremo a spiegare ogni singolo personaggio che ha fatto parte di questo team. Comunque Iroled insieme a questi personaggi inizia ad accettare ogni singola missione possibile che viene trovata dal sistema e intanto iniziano a reclutare anche tanti altri personaggi e la prima grande missione che riescono a completare e la grande minaccia che riescono a sventare ha proprio a che fare con Kang il Conquistatore. Tra l'altro, grazie a queste loro geste iniziali e al fatto che sono un team estremamente affiatato, Iron Man e Captain America che torneranno all'attivo decidono quindi di accettarli e anzi di guardare alle loro avventure. Ufficializzando quindi il team come una versione giovanile degli Avengers, di fatto diventando i Young Avengers che poi avranno anche una base. La base verrà comprata tra virgolette da Kate Bishop, ovvero Hawkeye, l'occhio di falco di questo gruppo, semplicemente perché suo padre, proprietario di un'azienda pubblicitaria, aveva questo grande magazzino che era rimasto vuoto e quindi diventerà il quartier generale, potremmo dire, degli Young Avengers. Una cosa molto interessante degli Young Avengers, forse derivante anche dalla loro giovane età, è che sono tutti quasi fratelli tra di loro. Sono molto molto amici, a differenza degli Avengers, che si sciolgono, si ritrovano, si sciolgono di nuovo. È un team molto interessante e oggi chiaramente, ragazzi, andiamo a parlare di tutti i loro membri, partendo da quella che secondo me è un po' il simbolo del team, ovvero Kate Bishop, che nasce in una ricchissima famiglia di Manhattan. Suo padre, Derek Bishop, è un magnate della pubblicità. Ha un'azienda di successo. Sua madre, invece, è una donna, possiamo dire al limite della depressione, che spende il suo tempo in vacanza. In una di queste vacanze, tra l'altro, ci lascerà la pelle in un incidente. Kate cresce con sua sorella Eleanor e inizialmente ammira moltissimo suo padre, nonostante sia molto assente. Con il passare del tempo, però, scopre che suo padre porta avanti, possiamo dire, delle attività clandestine assolutamente ai limiti della legalità e quindi si stacca da lui, diventando comunque una persona molto interessata nell'aiutare gli altri e anche, comunque, nell'utilizzare l'arco e le frecce, cosa che poi la caratterizzerà nel corso della sua futura vita. La prima volta che lei incontra i Young Avengers è durante una delle loro primissime missioni, quando i Young Avengers salvano centinaia di persone durante il matrimonio di sua sorella. Di fatto, nonostante lei sia poi diventata, col passare del tempo, una dei personaggi più famosi da legare ai Young Avengers, tra l'altro è stata anche una delle leader di questo team per un certo periodo, lei non è una fondatrice del team, anzi, viene reclutata proprio durante questa missione, anzi, per la prima volta lei incontra Young Avengers in questa missione. Per quanto riguarda l'abilità di questo personaggio, ovviamente abbiamo il fatto che è un'atleta molto molto brava, sa utilizzare le arti marziali, sa utilizzare ovviamente l'arco e le frecce e anche la spalla, essendo che ha fatto dei corsi di scherma. Il nome Hawkeye, quindi Occhio di Falco, in realtà le viene dato proprio da Captain America, che serve quindi per sostituire l'Occhio di Falco originale, che in quel periodo era morto, che poi è risorto, come sapete bene, e quindi alla fine le cose tornano tutte. Adesso, al momento, teoricamente ci sono due Hawkeye diversi, ma lei, a differenza di molti altri personaggi, il nome Hawkeye, il nome Occhio di Falco, lo mantiene. Per me lei è un ottimo personaggio erede, un legacy character, come dicono in America, no? Quindi questi personaggi che si riprendono il nome di personaggi più vecchi e più famosi. È un personaggio che io apprezzo molto. E andando avanti, andiamo a parlare di un personaggio di cui stiamo parlando molto in questo periodo sul canale, ovvero Wiccan, chiamato William Kaplan, famoso per essere uno dei due figli di Scarlet Witch e Visione. Per farla breve, in realtà esiste un video intero in cui parliamo delle sue origini, ma ovviamente in questo video voglio parlare anche di altri personaggi e quindi non dedicherò tutta la seconda parte su William. Però comunque Scarlet Witch, a un certo punto, come sapete, crea questi due bambini, ovviamente che non sono figli di sangue e di Visione, essendo che Visione è un robot. Purtroppo per lei però i suoi poteri le permettono di creare due corpi, ma non due anime. Queste anime lei le ruba senza saperlo da Mephisto, che quando poi torna sulla Terra decide di riprendersele. In realtà poi, durante una sorta di scontro con la magia di Wanda, il demone perde di nuovo queste anime, che quindi si rincarnano in due ragazzini. Uno di questi è appunto Billy Kaplan, che nasce e cresce in una famiglia ebrea di New York. William cresce tra l'altro con la grande passione per i supereroi e soprattutto diventando un grandissimo fan di Scarlet Witch, non sapendo che in realtà quella è sua madre, almeno per quanto riguarda l'anima, e che anzi, per una piccola piccolissima parte della sua vita precedente, lei lo ha cresciuto effettivamente. Col passare del tempo, comunque, William scoprirà che ha dei poteri e i suoi poteri inizialmente si presentano come dei poteri che hanno a che fare con l'elettricità. Il primo nome da super, infatti, che avrà William sarà Lasgardiano, che poi ovviamente cambierà in Wiccan. Ovviamente stiamo parlando di un personaggio super iconico e anche molto molto forte. Difatti questo personaggio riuscirà anche ad avere una forma chiamata Forma Demiurgo, che è in grado addirittura di camminare per il multiverso, passare da un universo a un altro ed è quasi indistruttibile, per non dire quasi invincibile, ok? Quindi stiamo parlando comunque di un personaggio molto forte, che ha sempre a che fare con la magia e che anche lui è molto iconico per questo gruppo. Andando avanti abbiamo poi Patriot, ovvero Ellie Bradley. Ellie Bradley è il nipote di Isaiah Bradley, il primo afroamericano a diventare Captain America. Come sapete, questa è una storia che vediamo anche effettivamente nell'MCU. A un certo punto il governo degli Stati Uniti riprova a ricreare questo siero del super soldato e fa degli esperimenti, dei veri e propri esperimenti su degli umani, in particolare su 300 afroamericani, tutti soldati afroamericani del Mississippi e solo Isaiah Bradley effettivamente riesce ad uscirne fuori con dei poteri. Ok? In realtà però, questo non è un video su Isaiah Bradley, quindi ci dobbiamo concentrare su Ellie, questa cosa è importante fino a un certo punto, perché comunque Sarah Gale, che è la madre di Ellie, nasce prima che Isaiah prenda i poteri del super soldato, quindi Ellie nasce effettivamente senza il siero del super soldato. Comunque col tempo, anche grazie alla tradizione di famiglia, viene contattato da Iron Led e quindi prenderà il nome di Patriot con anche il suo scudo annesso e anche questo costume, devo dire, è un po' particolare che lo cambia effettivamente. Molti di voi si quindi si staranno chiedendo quali sono le abilità di questo personaggio. Ragazzi, in realtà è molto semplice. Inizialmente lavora senza, quindi inizialmente lui effettivamente non ha i poteri, ma poi, per colpa di un incidente, deve fare, anzi deve subire una trasfusione di sangue e il sangue è proprio quello di Isaiah. E quindi in poche parole, alla fine finisce per avere anche parte del sangue di Isaiah nel suo e quindi anche lui subisce gli effetti del siero del super soldato, aumentando di molto la sua forza e facendolo diventare appunto un super soldato. Abbiamo poi Stinger, ovvero Cassandra Lang, che molti di voi comunque magari si ricordano come Stature. Allora, per quanto riguarda questo personaggio, anche lei in realtà possiamo dire tranquillamente una figlia d'arte, essendo che suo padre è Scott Lang, quindi l'Huntman originale. Anche lei utilizza delle tecnologie e dei poteri molto molto simili e anche lei finirà per unirsi agli Young Avengers. In realtà lei non viene contattata dal protocollo Avengers che aveva Iron Led, lei si unisce a loro, tra l'altro, nello stesso momento in cui si unisce anche Occhi di Falco, ovvero Kate Bishop. Difatti, lei sente parlare dei Young Avengers, decide di andare a cercare la ragazzina che sarà salvata da loro e insieme li trovano e quindi si offrono per entrare appunto nella squadra. Grazie alle sue origini, al suo, soprattutto genitore, quindi a Scott Lang e anche comunque alla tecnologia che sa utilizzare, lei entra a far parte nella squadra. I suoi poteri ovviamente sono gli stessi di Ant-Man, quindi può rimpicciolirsi utilizzando le particelle di Pym e con le stesse particelle può anche aumentare a dismisura la sua stazza. Queste sono le sue caratteristiche, niente di nuovo in realtà. E tra l'altro con Patriot e con Stinger o Stature, come volete chiamarla voi, il suo nome attuale è Stinger, effettivamente si capisce quanto in realtà i Young Avengers siano letteralmente una versione giovane degli Avengers che noi conosciamo meglio. Iron Led è quello che possiamo definire a tutti gli effetti il fondatore degli Young Avengers e lui ha forse le origini più complicate in assoluto. Difatti Iron Led proviene dal trentesimo secolo, di terra 6.3.11, quindi viene dal futuro in realtà. A un certo punto, come tutte le linee temporali del futuro, a un certo punto arriva Kang, il conquistatore. Il conquistatore però ovviamente è una sua variante. Difatti il nome Nathaniel Richards probabilmente vi dice già qualcosa. In poche parole il nostro Iron Led scopre che lui in futuro sarebbe diventato così, sarebbe diventato un conquistatore cattivo e che avrebbe fatto del male a chiunque. Ovviamente lui, che è un po' diverso, ovviamente ogni variante è un po' diversa, non vuole diventare così e quindi decide di andare nel passato, in quella che viene definita l'epoca degli eroi. Andando nel passato si costruisce anche un'armatura, difatti spesso Iron Led oltre a essere collegato a Kang viene collegato ad Iron Man, non solo per il nome ma anche per il design, lo starete notando anche con le immagini, e quindi torna appunto nella nostra epoca, dove poi ci sarà tutta quella storia di cui abbiamo parlato prima, quindi Iron Led che trova questa versione di visione distrutta, si ricostruisce l'armatura, la potenzia, e inizia a cercare gli Young Avengers. Col tempo comunque diventa un personaggio abbastanza importante, avrà spessissimo a che fare con Kang il Conquistatore, e di fatto i suoi poteri riguardano principalmente la sua armatura, quindi parliamo di una tecnologia futuristica molto molto potente. Andando avanti poi, andiamo a parlare del secondo figlio di Wanda, ovvero Bid, che in realtà prende il nome di Thomas Shepard. Per quanto riguarda le sue origini, sono molto simili a quelle di Wiccan, quindi sua madre, Scarlett Witch e questi due figli, poi arriva Mephisto, poi si riprende le anime, poi le anime tornano giù nella terra, e in questo caso Tommy nasce nella famiglia Shepard. A differenza di quella di Billy però, è una famiglia molto particolare, potremmo dire disastrata, che infatti poi porterà Tommy a delinquere diverse volte. Alla fine Tommy finirà anche in una casa, possiamo dire, in cui vengono accolti tanti bambini, e per sbaglio, tra molte virgolette, utilizzerà anche i suoi poteri per distruggere completamente quest'istituto, di fatto questa sorta di scuola in cui stava. Proprio per colpa dei suoi poteri, quando il governo si rende conto che è un individuo pericoloso con dei poteri, viene messo in una sorta di prigione, proprio progettata per le persone che hanno dei poteri, soprattutto giovani, e quindi viene messo lì. Proprio durante una delle avventure dei Young Avengers, lui viene liberato e quindi si unirà a loro. Tra l'altro già con la prima apparizione, il primo incontro tra loro, qualcuno, in particolare proprio Cassie Lang, quindi Stinger o Stature, si rende conto che i due sono molto molto simili. Di fatto loro sono dei gemelli, almeno per quanto riguarda l'anima, e comunque poi ci sarà tutta la storia che riguarda la consapevolezza di Speed e Wiccan, che riusciranno a capire che effettivamente il loro passato è già stato scritto. Detto questo, detto questo, ragazzi, per quanto riguarda Wiccan e Speed, ci sono dei video su questo canale, anzi per Speed magari ne parleremo in un altro contenuto, ma poi andando avanti abbiamo un altro membro, secondo me molto importante e super iconico di questo gruppo, ovvero Hulkling. Questo personaggio, pensate, è un mezzo Skrull, mezzo Kree, cioè quindi proprio i due razze più bellicose dell'universo, che poi crescono, cioè in realtà fanno nascere, perché non possiamo dire che escono, questo ragazzone molto pacifico. Allora, lui è il figlio di Captain Marvel, però chiamato Mar-vel, quindi questo Kree, quindi non pensate ovviamente a Captain Marvel che conosciamo nell'MCU, che quindi è un Kree, che poi ha un figlio in segreto con la principessa dell'impero Skrull. Appena il bambino nasce, comunque la principessa lo manda sulla Terra, dove viene adottato da una signora, la signora Altman, che decide di crescerlo come Theodore Teddy Rufus Altman. Di fatto, lui cresce sulla Terra come se fosse un umano, e poi a un certo punto i suoi poteri iniziano a manifestarsi. Oltre a essere molto forte fisicamente, ha anche l'abilità di lo Skrull. Quindi nella sua forma, possiamo dire, vera, lui è molto grosso e soprattutto verde. Il nome Hulkling quindi proviene proprio da questa somiglianza con Hulk, e ancora qui c'è un grande collegamento quindi con gli Avengers originali. Lui è un po' l'Hulk degli Young Avengers, potremmo dire. Questo personaggio è ricordato anche perché lui è il compagno, e anzi, in realtà, anche recentemente, possiamo dire, il marito di Billy, di Wiccan, l'altro figlio, quello magico possiamo dire, di Scarlett Witch. La loro relazione è uno dei punti centrali, in realtà, degli Young Avengers, anche perché, c'è da dire, questo secondo me è un punto, secondo me, a favore di questo team. A differenza degli Avengers originali, loro cambiano veramente poco la line-up. Ecco, loro rimangono sempre lì, e quindi, loro sono due membri che rimangono sempre, effettivamente, all'interno del team. Andando avanti, abbiamo poi, ultimi due membri, poco famosi, però molto interessanti, ovvero, Miss America, ovvero, America Chavez, in realtà, poco famoso, più o meno, perché adesso America Chavez è diventata famosa, grazie a Doctor Strange, Multiverse of Madness, e come sapete, lei ha dei poteri particolari, che le permettono di viaggiare nel multiverso. Inizialmente, lei non aveva dei poteri, aveva solo una malattia molto, molto grave, insieme a sua sorella, e i suoi genitori, che erano, tra l'altro, dei microbiologi, utilizzando, comunque, i fondi di un miliardario, molto ricco, che finanziava la loro ricerca, cercando di curarla, scoprono che, in realtà, lei ha questi poteri, questi poteri, che le permettono di andare in giro, per il multiverso. Ovviamente, quando vengono introdotti questi personaggi, quindi, un miliardario, che dà i fondi per le cure, dei genitori, che provano a curarla, e poi, in realtà, questi non sono delle malattie, ma sono dei veri e propri poteri, sapete bene o male, dove andrà questa storia. Ovviamente, il miliardario cercherà, di riprendersi, quello che per lui, gli appartiene, quindi, i poteri di America, e i genitori moriranno, in tutto questo incidente. Alla fine, crescerà, insieme a sua sorella, e crescerà, con questi poteri. Lei sarà uno dei membri fondamentali, comunque, nei Young Avengers, anche se, non si unirà subito, con loro, a differenza, per esempio, di un Wiccan e di Speed, che iniziano la loro carriera, proprio nel team. Lei si unirà, un po' dopo, effettivamente, e quindi, diventerà un membro fondamentale del team, soprattutto, per le loro avventure, che avranno a che fare, col multiverso. Andando avanti, abbiamo ancora, Loki, o forse dovrei dire, Eichol, o Young Loki, come viene conosciuto in gergo. Difatti, durante l'assedio di Asgard, nella saga, dei Dark Avengers, per intenderci, Loki muore, per colpa del Void, però, risuscita. Qua ora, ragazzi, veramente, sarebbe complicatissimo, spiegare il tutto, e forse ci metterei dieci minuti, ma alla fine, riesce a prendere, diverse forme, che poi lo porteranno, ad avere, tra l'altro, anche una forma animale, tipo quella del corvo, per un periodo, e poi anche quella, da ragazzino. Di fatto, questa nuova forma, questa nuova versione di Loki, questa reincarnazione, in realtà, diventa, Eichol, e quindi, noi lo conosciamo, in questo modo. Questa per lui, però, rappresenta, una, un nuovo inizio, possiamo dire, una nuova vita, in tutti i sensi, tra l'altro, e di fatti, durante la sua carriera, prima di tornare a essere il Loki, che tutti noi conosciamo, si unirà appunto, agli Young Avengers, diventando comunque, un membro molto molto importante. Inizialmente si unisce loro, perché è interessato ai poteri di Wiccan, bisogna dire anche questo, però comunque, lui in realtà, fa molte avventure insieme a loro. Per quanto riguarda i poteri, ragazzi, sono tutti poteri che ha Loki, quindi poteri magici, poteri, ovviamente di forza fisica, essendo che ha delle origini importanti, ma soprattutto la magia, comunque, sarà quello che lo caratterizzerà, e concludiamo con Marvel Boy, conosciuto come Novar, un altro Kree, che in realtà appartiene a un'altra dimensione, chiamata dimensione 20-00-80. In questa dimensione, per colpa del suo DNA particolare, che gli ha fatto, diciamo, gli ha reso una sorta di scarafaggio soldato, di fatto lui ha delle proprietà che appartengono agli scarafaggi, per intenderci, diventa un super soldato, e viene incaricato subito dal regno dei Kree, per essere comunque su una nave da combattimento. Durante un combattimento contro delle creature potentissime, la sua ciurma finisce nel multiverso, e alla fine arrivano, indovinate un po' dove, su Terra 616. Quindi diventa un eroe, e inizia a lavorare, ovviamente, anche con gli Avengers, e soprattutto con gli Young Avengers. Per quanto riguarda i suoi poteri, semplicemente abbiamo una forza sovrumana, una velocità sovrumana, agilità sovrumana, tutto quello che potete immaginare sovrumano. Una cosa però interessante, è che lui può anche arrampicarsi sui muri, una cosa molto simile a quello che fa Spider-Man, questo grazie anche al suo DNA, di cui vi parlavo prima, e in più utilizza anche qualche tecnologia Cree futuristica, che non fa mai male effettivamente in un personaggio del genere. Comunque ragazzi, questi erano i Young Avengers, dalle loro origini a tutti i membri conosciuti. Dato questo ragazzi, io vi ringrazio moltissimo per essere stati qui con noi, mi raccomando come sempre, fatti bravi, e noi ci vediamo prestissimo con altri contenuti a tema Marvel, se vi va. Ciao ragazzi.